Tragedia sul lungomare pesarese, uomo muore mentre nuota in acqua. Vaccini, quasi l'88% del personale scolastico ha ricevuto la seconda dose. Primi bilanci sul ROF 2021, domenica arriva Mattarella. Demetrio, Paceco, Sanford, presentati nuovi giocatori dalla Carpegna Prosciutto Basket. Una cordiale buonasera. Anche oggi, mercoledì 18 agosto 2021, puntualissimi sul canale 633 con Rossini News. In apertura parliamo di Cronaca, un uomo di età adulta, circa 70 anni, è deceduto questa mattina sul lungomare pesarese, all'altezza dello stabilimento numero 13, Bagni Ridolfi, situato in Viale Trieste. Dopo averlo visto nuotare, i bagnini di salvataggio, che controllavano quel tratto di litorale e che sono poi intervenuti per le operazioni di salvataggio, hanno nuotato l'uomo privo di sensi non lontano dalla scogliera. A nulla però è servita la rapida corsa col pattino per recuperare l'uomo dall'acqua e i successivi tentativi di rianimazione condotti in spiaggia, sia dai bagnini, oltre che dal personale della Capitaneria dei Porto e dai sanitari del 118. La constatazione del decesso è avvenuta poco dopo le 13. Ancora in corso, nel pomeriggio, il processo di riconoscimento ed identificazione dell'uomo. In primo piano ancora la cronaca, perché una ragazza di 28 anni è finita in overdose nella notte tra lunedì e martedì, dopo essersi iniettata all'interno della sua abitazione una dose di eroina. I sanitari giunti sul posto sono stati allertati dal padre della giovane, che dopo aver bussato alla porta del bagno e non aver ricevuto risposta, ha deciso di contattare il 118. Grazie all'intervento dei sanitari, la ragazza si è ripresa in breve tempo e ha confessato alla polizia giunta sul posto di aver acquistato la droga consumata al parco Miralfiore. Gli agenti che hanno sequestrato la siringa utilizzata dalla 28enne sono ora sulle tracce dello spacciatore. Non è stato ancora identificato l'autore del furto avvenuto nella mattinata di ieri l'altro presso il Caffè Journal prima dell'apertura. Sull'account social del locale, situato in Piazzale della Libertà, erano stati pubblicati alcuni fotogrammi della telecamera di sorveglianza che immortalavano l'autore del furto mentre si impossessava di un barattolo posizionato vicino al ricevitore di cassa, che conteneva circa 2.000 euro, il corrispondente di gran parte delle mance della stagione estiva. Diverse le segnalazioni giunte al locale in seguito alla denuncia pubblicata su Facebook, ma l'autore del gesto non è ancora stato individuato. Vediamo ora le immagini che ci ha inviato un nostro telespettatore che immortalano un'operazione di questa mattina da parte dei vigili del fuoco, che sono intervenuti in spiaggia sotto monte a bagni due palme per rimuovere un furgone che era rimasto incastrato nel bagnasciuga. Diversi tentativi effettuati prima dell'arrivo dei pompieri per liberare il mezzo. Infine, i vigili sono intervenuti con un mezzo anfibio intorno alle 10 sotto gli occhi di tanti bagnanti incuriositi dall'accaduto, riuscendo a riportare alla normalità la situazione. Voltiamo ora pagina e parliamo di sanità, perché l'ufficio scolastico regionale ha reso noto i dati del personale scolastico marchigiano che si è sottoposto alla vaccinazione anti-covid. Li sentiamo in questo primo servizio. L'ufficio scolastico regionale ha reso noti i dati del personale scolastico che alla data del 9 agosto si è sottoposto alla vaccinazione anti-covid. I soggetti che hanno già ricevuto almeno la prima dose sono 34.481, ovvero più del 95% del target previsto, composto da oltre 36.000 unità tra docenti e personale ATA. 31.615 invece il numero di immunizzazioni completate con doppia dose registrate sempre al 9 agosto dal Servizio Sanità della Regione. Dati che indicano come quasi l'88% del personale scolastico marchigiano abbia terminato il percorso di vaccinazione. Per quanto riguarda gli studenti invece, dai dati registrati una settimana più tardi, l'ufficio scolastico ha comunicato che per la fascia dai 12 ai 15 anni hanno ricevuto la prima dose quasi il 40% delle ragazze e dei ragazzi, mentre più del 16% ha concluso la profilassi. Nella fascia che va dai 16 ai 19 anni invece, il 46,5% ha terminato la vaccinazione, mentre più del 66% degli alunni più grandi è in attesa di ricevere la seconda dose. Rispetto al numero totale degli studenti marchigiani, ovvero più di 110.000 ragazze e ragazzi, quasi il 47% di questi non ha ancora aderito alla vaccinazione anti-Covid. Sul fronte dei nuovi contagi, invece, il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che rispetto ai 2.883 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, sono 205 i nuovi casi di Covid-19 segnalati sul territorio regionale. Di questi, 36 sono stati riscontrati nella provincia di Pesaro Urbino. Oltre ai numeri dei tamponi analizzati e dei casi positivi riscontrati, salgono anche quelli dei ricoveri negli ospedali marchigiani. L'ospedale pesarese ha visto un incremento di 5 unità, per un totale di 20 pazienti attualmente ricoverati, 10 nei reparti ordinari, 5 in quelli semi-intensivi e 5 in terapia intensiva. Il bollettino quotidiano emesso dal Servizio Sanità della Regione, come accade ormai da diverse giornate, non ha notificato nuovi decessi legati al Covid. Cresce l'attesa per l'arrivo in città del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, previsto per domenica in occasione dell'evento conclusivo della 42esima edizione del Rossini Opera Festival. Il Presidente del ROF e Vice Sindaco Daniele Vimini ha tracciato nella prossima intervista un primo bilancio della edizione 2021. Ascoltiamolo. Un bilancio molto positivo, anche oltre le aspettative, le aspettative date ovviamente anche dall'incertezza di una manifestazione che si programma con anni d'anticipo, mesi negli ultimi dettagli, quindi insomma non sapevamo che tipo di riscontro avremmo avuto dal pubblico italiano e mondiale, invece è stato oltre le previsioni, chiaramente con meno poste a disposizione per quelle che sono le restrizioni, soprattutto rispettacoli al coperto e siamo riusciti a riportare com'era volontà, com'era necessità tutta la produzione ai luoghi coperti, quindi il Teatro Rossini e la Vitri Frigo Arena, salvo ovviamente l'appuntamento del 22 con il Presidente Mattarella per il gala per i 25 anni dei Carriera di Florez, che chiuderà il festival, che si terrà come sappiamo in Piazza del Popolo. Per la prima volta il Presidente della Repubblica in carica a visitare il nostro, essere il Presidente al nostro festival, ci inorgoglisce particolarmente come Città di Pesaro, come Rossini Opera Festival, naturalmente la consideriamo anche un tributo non solo a 42 anni di storia del festival, con noi ci sarà anche il Presidente onorario Gianfranco Mariotti, insomma sarà un modo per riscuotere un elemento di orgoglio veramente importante da parte di tutto il Paese, rappresentato dal Presidente Mattarella e un'edizione così piena, diciamo è stato un messaggio importante anche nella direzione della ripartenza del lavoro e vogliamo pensare che sia stato anche questo uno degli elementi che ha convinto il Presidente a onorarsi della sua presenza. Un bilancio positivo, diciamo, perché è non solo dato dal sold out della biglietteria, anche dai riscontri di pubblico e di critica, ma soprattutto perché dopo la parentesi chiaramente più italiana dell'anno scorso si è riusciti, comunque il pubblico straniero si attestava sopra il 30%, siamo riusciti a superare il 50% di pubblico straniero per un obiettivo normale, festival, che è attorno al 65-70% e capiamo l'importanza che in termini sia di ricaduta economica ma anche, diciamo, di visione internazionale di un festival che ha questa unicità in Italia di avere questa attrattiva così grande verso il pubblico mondiale appunto ne fa uno dei punti di forza, di orgoglio e anche di traccia per il lavoro futuro. In questo momento è in corso la seconda, la prima replica del viaggio a Reims che è l'occasione per fare debuttare i cantanti dell'Accademia, quindi, insomma, le future star rossiniane e allo stesso modo ci attende un altro giro delle tre opere quindi dal Moise Faraon al il signor Bruschino all'Elisabetta Regine di Ghilterra e anche la quarta produzione perché quest'anno le produzioni sono 4 su 3. Lo Stabat Mater del 20 di agosto sarà, diciamo, in forma scenica all'interno della scenografia più articolata del Moise Faraon quindi, insomma, un altro appuntamento sicuramente una chicca da non perdere e poi, appunto, la volata verso il concerto di gala di domenica 22. Da giovedì 19 agosto arrivano due nuovi tesori ai musei civici di Pesaro. Si tratta di due preziose tavole, tre quattrocentesche, donate al comune grazie al legato testamentario Marco Honegga, collezionista appassionato di Rossini, scomparso nel 2017 e assiduo frequentatore della nostra città. Le due opere, I Mago Pietatis di Allegretto di Nuzio, detto Nuzi, e L'Incoronazione della Vergine del Maestro della Madonna Carminati, saranno visibili nella Sala Bellini di Palazzo Mosca per tutto il mese di agosto per poi entrare a far parte del percorso espositivo in modo permanente. Il restauro delle due tavole si è concluso nel maggio 2020. Proloco in crisi a causa del Covid e organizzazione degli eventi diventate sempre più complesse a causa delle normative da rispettare, anche per gli eventi all'aperto. A richiamare l'attenzione sull'argomento è stato il Presidente Provinciale dell'Unione Proloco, Damiano Bartocetti. Vediamo il servizio. Dall'inizio del mese di agosto, l'introduzione del Green Pass obbligatorio interessa anche le iniziative, le sagre e gli eventi, compresi quelli che si svolgono all'aperto, la cui organizzazione passa per le mani delle Proloco. Nei giorni successivi all'emanazione del decreto, diverse sono state le richieste a livello nazionale per avere chiarimenti e correzioni, in particolare sul tema dei controlli, dato che le indicazioni fornite in prima battuta attribuivano ai volontari delle associazioni locali il compito di verificare il possesso della certificazione verde. Sulla gestione organizzativa degli eventi, non nasconde le difficoltà il Presidente Provinciale dell'Unione Proloco d'Italia, Damiano Bartocetti, il quale ha sottolineato il prezioso lavoro portato avanti dai volontari per rispettare le normative e i protocolli di sicurezza in un momento di crisi per diverse Proloco del territorio. È chiaro che ci siamo subito modulati e questo devo dire grazie allo straordinario rapporto di interforze che c'è tra la Questura e la Prefettura. Abbiamo fatto un protocollo d'intesa unico per tutte le Proloco della provincia di Piesolurbino, dove tra l'altro grazie all'interessamento della rete nazionale delle Proloco il Ministro Lamorgese ha modificato alcuni parametri, quindi non è più obbligatorio che durante un evento si controlli, quindi noi dobbiamo apporre dei cartelli dove è obbligatorio avere il Green Pass. Già questo ci alleggerisce al fatto che comunque all'aperto era impossibile poter controllare e far fare da carabinieri ai volontari delle Proloco. Abbiamo dovuto chiaramente ridurre gli ingressi come dovremmo ridurre gli ingressi da qui andando avanti, lo facciamo sempre di concerto con le forze dell'ordine, a volte alcuni eventi, bisogna dirlo, sono anche saltati a causa di queste restrizioni perché comunque è giusto, vorrei anche precisare una cosa, noi non siamo contrari al Green Pass e non siamo contrari al vaccino, ci teniamo a precisarlo, però la difficoltà è veramente tante, le Proloco molte sono in difficoltà economica. Abbiamo tantissimi eventi che riguardano il nostro territorio, tra l'altro il 25, anche se siamo in piena estate, il 25 di agosto avremo una riunione a Fossombrone per il Natale che non ti aspetti della provincia di Pesurbino. Vogliamo ripartire? Vogliamo ripartire con i mercatini di Natale in presenza che danno ossigeno all'artigianato artistico e ai prodotti tipici locali. Noi abbiamo circa in tutta la provincia 68 Proloco con una dislocazione circa tra iscritti e non iscritti perché non tutti sono iscritti, di circa 9.000 volontari. Vorrei ricordarlo, il Presidente della Proloco non percepisce stipendio, è volontario e dopo essere volontario si assume anche il rischio di organizzare quell'evento. Quindi su questo bisogna fare una riflessione molto importante e che soprattutto la politica intervenga in maniera decisa con dei contributi fondamentali, importanti su tutto il territorio regionale. Si conferma vincente il sodalizio tra la città di Pesaro e Dinner in the Sky, il ristorante a 50 metri di altezza che dà ai suoi commensali la possibilità di cenare e degustare un aperitivo sospesi tra cielo e terra. Sono stati tutti sold out, infatti gli eventi che si sono svolti a fine luglio e il primo agosto nella cornice di Baia Flaminia. Soddisfatto per le date pesaresi anche Stefano Burotti, concessionario in esclusiva per l'Italia di Dinner in the Sky. In alto i calici per la quinta edizione di Castello di Vino, l'evento che coniuga le atmosfere del Borgo di Gradara con le eccellenze vinicole del territorio e non solo. Passeggiando nelle vie di uno dei borghi più belli d'Italia sarà possibile sorseggiare calici provenienti dalle migliori cantine locali. Accompagnati dalle degustazioni, una vasta proposta di street food. Appuntamento da venerdì 20 agosto a domenica 22 dalle 19.30 alle 24.00. L'ingresso al Borgo è gratuito, le degustazioni sono a pagamento. Sarà un carnevale e statico, quello che inizierà a Fano questo weekend nella zona mare di Sassonia. Un carnevale nuovo nella formula dato che i carri non sfileranno ma saranno posizionati in alcuni punti strategici della città. Sabato 21 e domenica 22 saranno appunto nel lungomare di Sassonia. Ricco il programma di iniziative. Nelle prime giornate sono previste l'inaugurazione della mostra Camouflage 2021 in programma venerdì alle 19 a Palazzo Bracci Pagani, la presenza di campioni del mondo di body painting, appuntamento sabato presso l'attenso struttura e tanti altri eventi consultabili sul sito carnevaledifano.com Proseguono gli appuntamenti con il divertimento del cartellone estivo dell'Arena BCC di Fano dove venerdì la compagnia del Faro e Franca Mercantini porteranno in scena lo spettacolo Spulciand de qua e de là. Vediamo le interviste. Quest'anno sono molto felice di ritornare con le mie commediole o atti unici. L'argomento uno è la purga degli equivoci e fa sbudle da ridere, però l'importante è che faccia ridere ragazzi perché non abbiamo bisogno di ridere perché non pesca più a noi quindi io sono pronta ed è tutta me stessa per far ridere e poi c'è l'altro e le casalette hanno sentito anche perché c'è da ridere e c'è l'altro e c'è l'altro la genzia matrimoniale hanno trovato noi hanno trovato marito ai pensi a me. Il 20 agosto saremo carichi come la dinamite esplodiamo tenetevi pronti vi aspettiamo molti molti l'arena deve essere piena perché non vediamo l'ora di vedere il nostro pubblico che sorride e si diverte. E ora la pagina sportiva Leonardo Demetrio Caio Paceco e We Sanford sono i tre nuovi volti della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro presentati ufficialmente ieri pomeriggio in conferenza stampa vediamo il servizio. Siamo molto contenti di essere a Pesaro e giocare per la VL è stato questo il leitmotiv dei tre nuovi giocatori presentati ieri dalla Carpegna Prosciutto nella sala del Consiglio o del Comune di Pesaro We Sanford Caio Paceco e Leonardo Demetrio si sono detti entusiasti per questa nuova avventura cominciata lunedì con le visite mediche di idoneità e iniziata ufficialmente oggi con la partenza per il ritiro prestagionale a Carpegna Sono veramente entusiasta di essere arrivato qui perché Pesaro è un grande club con una grande storia e le campionate italiane è veramente una lega importante Sono eccitato di giocare con il coach Petrovic e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con lui Conosco bene questo campionato perché oltre a seguirlo ho avuto modo di incontrare squadre italiane negli ultimi anni come Venezia e Neuro Cup So che è un campionato molto fisico e tattico un campionato in cui si gioca a ritmo diverso rispetto a quello francese ma ci sono grandissimi giocatori sia nelle squadre top come Bologna e Milano ma anche nelle squadre che lottano per qualcosa di diverso Sono molto felice di essere a Pesaro e molto contento di avere questa possibilità Ho scelto Pesaro perché è un club importante e tutti conoscono la sua storia Ho scelto questa squadra perché gioca in una grandissima lega quella della Serie A italiana e sono veramente grato per questa opportunità e non vedo l'ora di iniziare Conosco Coce Petrovic perché ho giocato con lui in nazionale e conosce bene le mie caratteristiche In campo porto tantissime energie e tanta aggressività in attacco ma soprattutto in difesa Penso di essere un giocatore creativo e sono convinto che con questa intensità porterò Pesaro al top Sono molto contento di essere arrivato a Pesaro perché è una grande città un grandissimo club La lega italiana è veramente il top e non vedo l'ora di iniziare a lavorare Sono un'ala forte sono abituato a giocare da numero 4 ma tatticamente mi posso adeguare per poter girare sia sulle 3 ma anche sulle 5 e quindi come centro Questa è una cosa utile perché per ogni necessità posso aiutare la squadra Non solo i tre nuovi arrivi al termine della presentazione ha parlato anche il presidente dei Biancorossi Ario Costa che ha risposto alle domande sulla ricerca del pivot titolare tassello ancora mancante della squadra degli obiettivi stagionali del possibile ritorno al palazzetto dei tifosi in questa stagione e di quello che rappresenta per lui a livello sentimentale l'arrivo di Aza Petrovic sulla panchina della VL Quello che rappresenta per me lo tengo dentro di me credo che sia una cosa un professionista importantissimo nella nostra società un attore che ha navigato tutto il mondo si può dire grande esperienza grande carattere grande carisma quindi sono molto felice che Aza sia qua con noi e credo che ci farà ci farà innamorare della sua pallacanestro ma non siamo vicini né lontani stiamo cercando stiamo aspettando valutando e considerando tante cose che al momento chiaramente sono ancora tutta da finire perché la disponibilità dei giocatori non l'abbiamo ancora avuta l'obiettivo è di fare di fare una stagione tranquilla cercando di mettere alle spalle innanzitutto prima due squadre e poi tutto quello che farà siamo felici ma ripeto una stagione tranquilla bisogna fare tante valutazioni c'è distanziamento c'è l'omologazione insomma sicuramente un po' di pubblico ci potrà essere la campagna abbonamenti non lo so ancora cosa decideremo di fare anche se chiaramente i tempi stanno stringendo e anche oggi siamo giunti al termine del nostro notiziario Rossini News vi ricordo l'appuntamento in prime time questa sera con la tv dei viaggi un focus dedicato alla bellissima regione della Calabria alle 21.15 sul canale 633 di Rossini TV non mi resta che salutarvi dandovi appuntamento con l'informazione domani mattina alle ore 7.20 puntualissimi con Buongiorno Rossini buona serata a tutti di Rossini